Il primo giorno dei saldi estivi oggi a Trieste inevitabilmente ha fatto i conti con la vigilia della visita del Papa in città nonché con una foltissima presenza di turisti. Non sapevamo che ci sarebbe stato il Papa, se lo avessimo saputo avremmo prolungato la nostra vacanza, purtroppo dobbiamo attenerci ai nostri piani e partire quest'oggi. Un colpo d'occhio generale, va detto anche questo, non consenta al cronista di comprendere se e quanto i triestini abbiano già approfittato degli sconti. Questa sera poi, proprio in occasione della presenza del Papa, la notte dei saldi, appuntamento assai sentito in città per ragioni che hanno a che fare con la sicurezza, potrà tenersi in versione ridotta e dovrà chiudersi anzitempo. Sia come sia, sembra che in ogni caso il periodo dei saldi attiri ancora. Si calcola che in media ogni famiglia italiana spenderà 202 euro. Ne approfitterò sicuramente ma non oggi, sicuramente. Ma fa ancora presa i saldi o forse sta stramontando? No, ci mancherebbe. Guai se no. Abbiamo approfittato dell'ospitalità dei triestini, dei saldi, ma soprattutto di una città meravigliosa. Su le mani, facciamo una bella ora per la stampa. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.